C'è il discorso delle infrastrutture che ci differenzia in parte dai nostri alleati di governo con cui ripeto sono orgoglioso di governare questo paese da 5 mesi, lo faremo per i prossimi 5 anni. L'Italia e la Sardegna hanno bisogno di sì, hanno bisogno di andare avanti e non di tornare indietro. C'è bisogno di energia, c'è bisogno di metano, c'è bisogno di collegamenti telefonici perché non è possibile non riuscire a fare mezza telefonata che duri più di un minuto quando attraversi la Sardegna in macchina e dico in macchina perché attraversarla in treno è un pio desiderio.